Buonasera, come ti chiami? Marco Gennari troppo perché ognuno mi sa da militare ciao io sono Andrea che facciamo a quest'ora qui in un mezzo al prato chiedilo a sto matto vicino a me che mai amato senti e da dove vieni a si del posto allora due cose importanti guardami in caduta libera e sorridimi così facciamo delle belle foto mi raccomando anche qualche segnale tipo così così come quello che ti viene in mente i baci a chi ti pare bravo e poi buon divertimento grazie ci vediamo tra un po grazie a tutti Eccolo, vai, eccolo! Eccolo, vai, eccolo! 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 Vai, eccolo!